Controversia Track Limits, KTM sfida bagnaia, previsione in corso, analisi MotoGP Silverstone. Ciao a tutti, appassionati di MotoGP, benvenuti su questo canale dedicato alle emozionanti corse e alle sfide avvincenti del mondo delle due ruote. Oggi siamo qui per scendere nel vivo di una controversia che sta tenendo con il fiato sospeso tutti gli appassionati di questo sport. Quella tra KTM e pecco bagnaia su un possibile superamento dei Track Limits durante il recente Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. Pronti a entrare nel dettaglio? Ricordatevi di lasciare un like, commentare e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con tutte le ultime novità dal mondo della MotoGP. La mossa di bagnaia, superamento dei limiti. Il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone. C ha regalato un finale avvincente, ma una polemica è emersa dopo la gara. La KTM si è mossa rapidamente, recandosi alla direzione gara per sollevare dubbi sul comportamento di pecco bagnaia nell'ultimo giro. Il pilota della Ducati è stato accusato di aver superato i limiti della pista, in quella che è stata un'azione da brividi alla curva Stowe. Ecco cosa è successo. L'inquadratura decisiva. Violazione o no? Dopo essere stato superato da Alex Espargaro, vincitore del Gran Premio, bagnaia ha affrontato la curva Stowe all'esterno. Tuttavia, un'inquadratura televisiva ha sollevato dubbi sul rispetto dei track limits. A occhio nudo, sembrava che il talentuoso pilota Ducati avesse oltrepassato i confini della pista. KTM si fa avanti. La richiesta di revisione. Il team manager di KTM, Francesco Guidotti, ha deciso di fare un passo avanti presentandosi alla direzione gara. La richiesta di revisione è stata fatta per chiarire i fatti e accertare se bagnaia avesse veramente violato i track limits. Tuttavia, la risposta dei commissari ha gettato ulteriori ombre sulla questione. La risposta dei commissari è la tecnologia in gioco. I commissari hanno risposto a Guidotti sottolineando che il sensore nel punto critico non si è attivato al passaggio della moto di bagnaia. Questo ha reso il reclamo della KTM difficile da sostenere. L'innovativa applicazione sviluppata dalla FIM ha dimostrato che i pneumatici di bagnaia non hanno toccato la zona verde considerata fuori dall'asfalto, poiché i sensori non sono stati attivati. Il dibattito sulla gestione dei track limits continua a tenere banco. Il regolamento, infatti, offre spazio ai commissari sportivi per imporre sanzioni. L'incertezza su quando e come applicare le penalità FA dà sfondo a una discussione accesa tra i fan e gli addetti ai lavori. Ecco dunque la situazione intricata tra KTM e Pecco Bagnaia sulla questione dei track limits a Silverstone. La MotoGP, come sempre, sa come regalarci emozioni e controversie che tengono incollati davanti agli schermi. E voi, cosa ne pensate? Bagnaia ha davvero superato i limiti? Lasciateci un commento qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al canale per restare aggiornati sulle ultime novità dal mondo delle corse. Ci vediamo alla prossima gara.